Quali risorse per il Mezzogiorno d'Italia? Il Mezzogiorno ha a disposizione le risorse ordinarie e in più le risorse anche straordinarie dei fondi di sviluppo e coesione, sono risorse molto importanti, articolate su risorse europee e risorse nazionali, quindi le strategie di sviluppo del Mezzogiorno vanno migliorate perché dobbiamo puntare uno sviluppo autosostenibile, bisogna che gli investimenti generino imprese che diventano competitive, non dobbiamo fare interventi a pioggia mirati su aree strategiche del Paese, su settori strategici tra cui la ricerca e la competitività delle imprese. Come si completa il riordino degli enti territoriali, in particolare con le province, per i fondi, le competenze? Come voi sapete noi siamo impegnati in una profonda riforma istituzionale di questo Paese e quindi la riforma costituzionale intanto chiarifica in maniera definitiva le competenze tra governo e regioni che troppo spesso hanno generato confusione, un'altra confusione era generata dal fatto che le province erano titolari di funzioni pure attribuite a regioni e comuni in maniera uguale e quindi tutto questo crea una confusione di competenze, i cittadini non sanno più a chi dare la colpa, una confusione di responsabilità che credo che con la 56 abbiamo contribuito a chiarire togliendo il peso a un livello intermedio di governo che diventa un'agenzia a servizio dei comuni e di cui la regione può fruire per le sue programmazioni quindi abbiamo credo fatto una riforma molto profonda che adesso va attuata fino in fondo. In Fratea c'è anche De Luca anche se non è tra gli invitati, sicuramente cercherà di parlare con lei, presumo anche sulla questione che lo riguarda, la legge Severino, la candidatura alle regionali, ne avete parlato in questi giorni? Il sindaco De Luca può parlare con me quando vuole, non ha bisogno di venire qui, viene qui per ascoltare credo i rettori, grazie. Grazie, di questo parlerete col Presidente del Consiglio.